Ciao a tutti i barbastruzzi! Siamo qui per commentare il partitone di oggi, esattamente SPAL Juventus 2-1. Non abbiamo portato a casa i tre punti, manco l'uno e manco lo scudetto. Stiamo un po' buttando in fumo qualche possibilità di record, di punti in campionato e di giornate di anticipo della vittoria dello scudetto, ma va bene così. Allora, partita comunque non spiacevole da guardare, un 2-1 maturato in rimonta da parte della SPAL, eravamo andati in vantaggio con mitico Ken, lui c'è sempre, lui segna sempre. Sta diventando veramente una sicurezza. Io lo userei qualche volta anche in Champions, vedi te, vedi te Allegri, vedi te. Va bene, detto questo, una partita abbastanza equilibrata nell'insieme. Abbiamo visto la Juve entrare in campo, tanti giovani, tanti dell'Under 23. Castanos, Mavididi, Iveru, Nicolussi. Abbiamo visto il recupero di Quadrado che è tornato e a mio avviso è tornato in forma, grintoso, con voglia di fare, ha giocato bene. Sì, qualche nota positiva in generale per la squadra e qualche nota negativa. Ovviamente è una squadra rimpinzata di Johnny, per cui non aveva la capacità di pungere come ce l'ha di solito, anche se noi facciamo tantissimi gol di solito. A parte Ken che ha trovato un gol su tiro di Cancelo, una deviazione ben cercata. Ah, proprio, lui è un giocatore che annusa il gol, è un giocatore che veramente lì davanti comincia a far paura agli avversari. Bene anche Bentancur, nel senso, gravissimo nel processo di palla, anche se la tiene un po' troppo. Rischia spesso di finire l'azione perdendola perché continua a insistere sulla giocata singola. In fase difensiva un po' troppo fallosetto, però insomma può migliorare le caratteristiche e le qualità ce le ha tutte. In primo tempo andiamo in vantaggio al trentesimo con Ken, come detto. Poi Bonifazi, nel quarto minuto del secondo tempo, recupera con l'1-1. Una Juve comunque un po' più debole nel primo quarto d'ora del secondo tempo. Abbiamo subito tanto questo ritorno della spalla. E al settantatresimo, Flottkari, 2-1. E tutti a casa. Un bel palcoscenico, tutti i tifosi della spalla contenti, chissà perché. Che altro dire? Molto bene tra i giovani si è evidenziato Nicolussi, che è la sua seconda presenza in prima squadra, oltre che nella partita con l'Udinese, vinta all'epoca 4-1. Oggi secondo me ha dimostrato molto, giocando una mezz'oretta più o meno. Un bel tiro in porta, abbastanza pericoloso, un lancio lungo e in fase offensiva è riuscito a trovare bene il giocatore libero. E comunque nel centrocampo comincia a dare abbastanza sicurezza. Quando ha il pallone in piedi riesce bene nei passaggi, a trovare l'uomo, a trovare il proprio compagno, a saltare l'uomo avversario. Lo vedo abbastanza già quasi pronto per diventare una buona riserva dei nostri titolari. Che altro dire? In ottica salvezza ovviamente la Spal che fa il suo, dopo Roma-Lazio da una battosta anche alla Juve. Ci sta, ovviamente eravamo una Juve B, per cui abbiamo fatto anche tanto per chi è sceso in campo. In ogni caso la Spal adesso si mette a più 7 dall'Empoli momentaneamente e a 6 giornate dalla fine, mi sembra sì. Diciamo che conquista praticamente la salvezza. Juve che, devo essere sincero, va bene così, nel senso va bene a mio avviso non aver vinto, sempre che il Napoli domani batta... domani? lunedì? Quando è? Sì, domani batta il Chievo. Insomma, missione abbastanza facile visto il Chievo-Matterasso e questi tempi. In modo da rinviare la festa scudetta la prossima settimana. Perché? Perché sinceramente vincerlo tra i due quarti di finale con l'Ajax, l'1-1 dell'andata, non c'è l'atmosfera giusta, non me lo sarei goduto. Invece magari vincerlo avendo già in tasca la semifinale è tutta un'altra cosa. Ovvio che poi ottavo scudetto di fila, sei ancora in corsa in Champions, hai la testa a tutt'altra parte, per quanto puoi dire che bisogna godersi le vittorie, comunque noi juventini sappiamo cosa significa non goderselo ormai. Vabbè, teniamoci i nostri record, puntiamo alla Champions, però di questo ne parleremo in un altro contesto. Che dire, bella Juve con i suoi giovani, con i suoi ritrovati, anche Barzani in difesa, fa il suo, si fa prendere qualche gol, era colpa sua, vabbè insomma qualche buchino da dietro ci stava comunque. Niente, io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video, mettete like se vi è piaciuto, mettete dislike se non vi è piaciuto, in ogni caso iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ciao alla prossima! Che velocità!